Vince, ciao, ciao Vince, saluta, saluta, vai, Anna, vai, ciao Vince, dai, dai, fai vedere movimento, vince, movimento, movimento, dai, che lo riprenda, dai, dai, così lo portiamo a movimento, vai, vai, fa vedere, vai, lo mandiamo su internet, così vedi tutto, bravissimo, eccolo là, vai, vince, tu fai, perfetto, ecco, uno è fatto, adesso arriviamo da Vincenzino, fai vedere il petto, l'immagino, si, poi si infila, per fare le mesh, eccolo qua, un piccolo colpetto, è la ciocca è fatta, grande, ora tu riprendi a me, tieni qua sotto, vai, e io faccio vedere il problema, questo è il problema, è ok, scusami, non è un problema, scorri il filo, hop là, hop là, ok, due, abbassa, ok, ok, questo sui giù è importante, è migliore, questo sui giù è in massimo, eh, secondo me, non ce l'avevo comprato per la figlia, ma è sempre fatto a pagare, senza dici, va bene, intanto gli faccio anche ripresina, a voi, no? Hai capito? Sì, arrivo, clienti, ci sono clienti, sì, 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 arrivo subito, scorri il filo.